Pronta? Pronta! Ma è acceso? Sì. A giugno 2021 vi ho presentato OnlyOfficeDocs e pochi giorni fa, il giorno 18, è stata annunciata la versione 7 e di conseguenza sono stato incaricato nel raccontarvi le principali funzionalità che sono state introdotte. Questa è una pagina blog dove l'azienda vi presenta tramite video questo aggiornamento guidandovi in dettaglio su come utilizzare queste nuove caratteristiche. Quest'altra pagina fa la stessa cosa, solamente che in modo testuale con tanto di immagini. Ancora sotto un'altra forma su GitHub avete l'elenco, più chiari di così, non si può essere. Lascio tutto necessario in descrizione, come sempre. Allora, prima di partire a bomba vi introduco che cosa è OnlyOffice. Ascensio System è l'azienda lettone che sviluppa OnlyOffice, un progetto open source il cui focus è l'elaborazione avanzata e sicura dei documenti. Conta oltre 7 milioni di utenti in tutto il mondo, innovando nel settore dell'ufficio online, offrendo soluzioni aziendali tutti in uno per piccole e medie imprese, grandi organizzazioni, università e realtà governative. OnlyOffice dispone di vari servizi. Docs sono tre programmi per l'elaborazione dei documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, gli analoghi Word, Excel e PowerPoint per intenderci. Workspace è un pacchetto più completo perché comprende la gestione di documenti e progetti, la posta, CRM, calendari, chat per la gestione e la collaborazione in gruppo. Guardando più dall'alto, in OnlyOffice non è necessario passare da un'applicazione all'altra per eseguire attività diverse. Come specificavo prima, tutto in uno, in modo da ottenere la massima produttività. Non è una cosa da poco per del codice aperto. A completamento dell'esperienza utente, poi OnlyOffice offre applicazioni multipiattaforma, desktop e mobile, gratuite, disponibili su Windows, Linux, MacOS, Android e iOS. Questa è la principale novità e secondo me la più utile. La possibilità di creare moduli compilabili online, progettata per aiutare gli utenti a automatizzare la loro routine. Si possono generare moduli compilabili partendo da zero, oppure si può utilizzare un documento Docs esistente o modelli già pronti da scaricare dal sito ufficiale, potendoli modificare in collaborazione in tempo reale. Il lavoro è salvabile come pdf o come o-form per condividerlo e compilarlo online. I moduli sono disponibili all'interno di OnlyOffice Workspace sia nelle edizioni open source che in quelle commerciali, così come nelle varie integrazioni in NETcloud, Houndcloud, Confluence, Afresco, Nuxeo, non so come si pronunciano bene, eccetera. Adesso si possono proteggere i propri documenti attraverso una password. Per preparare i dati per il reporting e l'analisi, gli sviluppatori hanno inoltre aggiunto la possibilità di aprire e salvare tabelle di query che combinano i dati di una o più fonti. La nuova versione consente agli utenti di decidere se i link e i percorsi locali debbano essere sostituiti automaticamente con collegamenti per testuali, nonché selezionare i dati per l'opzione di mail merge da file locali e url. Facilitata l'aggiunta e la modifica delle transizioni nelle diapositive, gli utenti possono scegliere tra diversi tipi di transizione, regolandone i parametri e le impostazioni con pochi clic. In un prossimo aggiornamento verranno aggiunte anche le animazioni. Questa funzione consente di navigare attraverso le bozze precedenti di un documento e ripristinarle se necessario. Per impostazione predefinita ogni bozza viene salvata quando l'ultimo utente chiude il foglio di calcolo dopo averlo modificato. Inoltre, quando si coeditano i fogli di calcolo con altre persone in tempo reale, è possibile vedere le loro selezioni contrassegnati da colori diversi. Pensando a chi collabora di frequente sui documenti, gli sviluppatori di OnlyOffice hanno aggiunto la possibilità di ordinare rapidamente i commenti per data e autore in un documento di testo, foglio di calcolo, presentazione logicamente. Sono inoltre presenti due modalità di visualizzazione per la funzione Track Changes. Questa funzione è stata pensata per ridurre l'affaticamento degli occhi e migliorare la leggibilità dei documenti in ambienti in penombra. Quando la modalità scura è attiva, il testo viene visualizzato chiaro su fondo scuro, riducendo significativamente la luce emessa dei dispositivi. DOX 7.0 rende più facile lavorare con le impostazioni dei documenti, supportando le scorciatoie da tastiera. È sufficiente premere il tasto Alt in qualsiasi programma per vedere i suggerimenti sotto forma di pulsanti di scelta rapida e accedere rapidamente alle funzioni richieste, come schede, azioni di copia e incolla, dimensioni dei caratteri, opzioni di ridimensionamento, eccetera eccetera eccetera. Oltre alle opzioni di scaling esistenti, documenti, fogli di calcolo e presentazioni possono ora essere scalati fino al 500%. Il ridimensionamento viene applicato automaticamente in base alle impostazioni del browser o sistema operativo utilizzato. Ci sono altre piccole chicche ma non ho potuto dire tutto altrimenti questo video mi penalizza la fidelizzazione. Scherzi a parte, vi consiglio di provare questi programmi, intanto sono gratuiti, magari vi trovate meglio rispetto a Office perché io ultimamente sto avendo dei problemi, problemi che con ogni Office per fortuna non non ho. Vi aspetto in un prossimo video sempre all'aperto.